Adrian Fartade siamo un po' abituati, un po' troppo abituati a pensare che chi ha origini straniere faccia sempre i soliti mestieri. Tu fai il divulgatore scientifico, hai aperto un canale YouTube. In che modo nella tua vita questo preconcetto ha condizionato le tue aspirazioni? Oh no, io ero estremamente ribelle, per cui se qualcuno mi diceva che non potevo, non dovevo fare qualcosa per qualche caratteristica che avevo o provenienza o altro. Parte del divertimento di farlo era anche dimostrare che non era un limite, ma non solo per me, perché è sempre stata una responsabilità che ho vissuto anche per dare un messaggio, che era parte di chi mi sentivo di voler essere sul palco come attore e di quello che volevo far vedere. Per cui ho cercato sempre di fare quello che amavo, come mi piaceva, perché rientrare in qualcosa soltanto per la mia origine o provenienza o altre caratteristiche sarebbe stato prima di tutto una limitazione e secondo sarebbe stata un'occasione persa per rompere schemi. Ed era una delle cose per cui faccio arte, quindi il 90% del motivo per cui facciamo arte è distruggere quello che c'era prima, in senso positivo. Sei di origine rumena, in che modo nella tua identità, nella tua personalità stanno le due culture? Oh, in realtà ecco, la cosa è che per come l'ho vissuta non c'è mai stata questa divisione tra cultura rumena, cultura italiana o anche quando sono andato all'estero non ho mai percepito la cultura francese, la cultura finlandese, altri posti dove sono stato. Ci sono persone con elementi culturali che possono variare di caso in caso e una continua negoziazione tra quello che secondo noi significano e quello che vogliamo che significhino, per cui è molto fluido, per cui quando le persone mi chiedono della cultura romena, la cultura italiana, faccio molta fatica a identificare qualcosa che è tipico di una zona, perché per quello che è stata la mia vita in Italia ho trovato molte più differenze in piccole cose tra qualcuno che vive, non so, a Bolzano e qualcuno a Siracusa rispetto alla media dell'Italia, la media della Romania, per esempio. L'Italia dovrebbe essere uno dei paesi che è ben presente questo, perché troviamo differenze anche da una parte all'altra della strada, per cui il mondo del campanellismo è molto... per cui no, non ho visto, non c'è stata una differenza grossa tra culture o un conflitto da questo punto di vista, è stato molto fluido. a 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 Grazie a tutti.